Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. La celebre conduttrice Ilari Blasi ha iniziato le sue vacanze estive dopo aver concluso le riprese di Battiti Live in Puglia. Nonostante sia temporaneamente fuori dai programmi di Pier Silvio Berlusconi, il quale ha comunque apprezzato le sue performance, Ilari si gode il meritato relax a Mykonos insieme al compagno Bastian Müller, in un lussuoso alloggio con vista mozzafiato. Ilari e Bastian hanno scelto Mykonos per la loro prima tappa estiva, famosa per i suoi paesaggi spettacolari e l'atmosfera vivace. La coppia ha condiviso con i fan alcuni scatti della loro cena romantica, mostrando look coordinati in total white, Bastian in camicia e pantaloni di lino bianchi con ciabatte Hermes nere, mentre Ilari sfoggia un elegante abito bianco di Jacquemus da 780 euro, completato da una preziosa borsa Fendi che può raggiungere i 10.000 euro. Nel documentario Unica, Ilari aveva già confessato la sua passione per borse e scarpe esclusive, e non sembra risparmiare quando si tratta di accessori di lusso. Il soggiorno della coppia è nel rinomato cavo Tagu Mykonos, un resort di lusso a Cora Mykonos, metambita da molte celebrità. Ilari ha condiviso una splendida foto del tramonto dalla terrazza, con una vista spettacolare sul mare Geo, un'immagine che ha subito catturato l'attenzione dei fan. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.